buongiorno ragazzuoli lo so sono mattiniera per la verità sono già sveglia da un'ora ma oggi boh ho deciso così anche perché oggi e poi giustamente ho questa chioma folto stamattina leonina che ho detto ciao se non mi faccio vedere adesso non mi faccio vedere più ciao 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 ma mandul wadi spero di averlo pronunciato bene ciao buongiorno e oggi una giornata speciale vabbè devo andare a fisio più tardi perciò alle undici e mezzo dodici meno quarta uscirò perché devo essere lì a luna e ci mettiamo circa una mezz'oretta e però oggi una giornata speciale perché pomeriggio andremo a prendere la gingera finalmente quindi abbiamo preparato la stanzetta con tutte le cose i ragazzi hanno già lasciato il loro odore sulla coperta poi la portiamo dal veterinario a fare la vaccinazione e finalmente la portiamo a casa e niente che dire è una giornata non so dire se si sia soleggiato o meno però comunque per tutte le cose che dobbiamo fare è una bella giornata poi tra qualche settimana penso che farò il collaudo della della moto perché comunque è già la quarta o terza volta che la uso e devo dire che mi sembra che sia tutto in regola che vado tutto bene e niente ho finito patterson come come lettura e sto andando avanti a leggere alice basso la scarittrice del mistero che è uno dei libri che mi ha regalato mia mamma il complesso e che dire spero che oggi la fisioterapia vada vada bene e spero che alla fine di sentirmi bene come sempre perché fondamentalmente la mia calabrese è lei mitica e poi sto dire sono stata fortunata che mi hanno mi hanno dato lei insomma e a ecco volevo dirvi questo sto guardando per la verità sto finendo oramai di guardare una serie su netflix che si chiama baby e abbiamo scoperto io e stefina guardandola dopo un po di episodi che quasi certamente è una serie tv ispirata al alle baby squillo allo scandalo che c'è stato ai parioli delle baby squillo di neanche tantissimo tempo fa francamente perciò devo dire realizzata molto bene molto attuale purtroppo sono fatti tristi ma sono fatti realmente accaduti è una realtà esistente perciò oggi finiamo di vederla ma devo dire mi è piaciuta invece un'altra serie che ho iniziato a guardare da poco questa è gifte sempre su netflix e poi stiamo guardando manca altre serie devo dire tutte belle anche se la mia preferita in assoluto horror sarà e resterà sempre marianne poi ne approfitto anche per dirvi che le gatte stanno sfruttando più che altro gilda perché già ma ancora sto prendendo le misure della parete stanno sfruttando le mensole che gli abbiamo fatto anche se dovremmo girare i cubi perché come li abbiamo messi così non c'entrano cioè sono scomode e rischia di essere pericoloso per loro potrebbero scivolare e sto pensando se ho delle ulteriori novità ma adesso sul momento non mi viene in mente nient'altro francamente e niente pubblicherò qualche qualche foto della ginger così la vedete me la faccio vedere per quattro o cinque giorni resterà nella sua nella sua stanzetta ciao a airmettio 88 buongiorno resterà nella sua stanzetta e dopo pian pianino quando sarà il momento la faremo conoscere alle altre due niente io se riesco oggi mi farò fare una bella foto sulla motoretta così la vedete la mettiamo e come sapete ci risentiamo senza dubbio molto presto augurato di una buonissima giornata e niente mi mando un bacio con l'ingoloso ciao 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 ciao